Porto in aula una questione che è assurda agli onori della cronaca a livello nazionale, cioè il presidio ormai costante di puscere di tossicodipendenti sulla tratta della linea S9 che va da Saronno a Seregno. Questa è una tratta relativamente nuova, inaugurata pochi anni fa, probabilmente i cittadini non la conoscono ancora in modo adeguato e non la usano in modo adeguato, ma gli spacciatori e i tossicodipendenti di tutta la Lombardia invece l'hanno conosciuta molto bene. Solo nella prima metà del 2005 si sono registrati 64 episodi di criminalità portandola, come dire, questa linea al numero uno di esposizione a questo tipo di episodi a livello regionale, forse non solo. La stazione di Ceriano, Parco Groane, che era la più colpita inizialmente da questo fenomeno, è presidiata dalle forze dell'ordine, ma questo ha portato solo lo spostamento del fenomeno alla stazione successiva, quella di Cesano, Parco Groane. Nonostante varie retate fatte dalle forze dell'ordine la questione non si riesce ancora a risolvere e c'è un grossissimo quindi problema di sicurezza per i frequentatori delle stazioni e per i frequentatori di questa linea. La presenza di security team di Drenord non è assolutamente sufficiente, c'è una sensazione diffusa di insicurezza da parte dei passeggeri che tendono a concentrarsi sulla prima carrozza per stare tutti insieme ed evitare il contatto con figure poco raccomandiabili, mettiamola così. Questa è una situazione ovviamente che non può essere tollerata ulteriormente, per questo motivo noi chiediamo a Regione Lombardia di fare la sua parte e quindi di fare tutto ciò che è in suo possesso per garantire adeguati livelli di sicurezza per i passeggeri e per gli operatori di Trenord, per fare un'azione di prevenzione e di controllo sui convogli ferroviari, anche attraverso l'utilizzo di guardie giurate particolari e soprattutto anche il tema del rilancio della linea stessa, cioè non basta intervenire solo sul tema della sicurezza ma bisogna anche rilanciarla. È una perfetta porta di ingresso turistica per il Parco delle Groane quindi la si utilizzi in questo modo. Grazie. La sicurezza è una competenza dello Stato e Regione Lombardia prima di prendere dei provvedimenti costosi ha chiesto al Governo il potenziamento delle forze dell'ordine attuali. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Abbiamo detto prendiamo noi dei provvedimenti anche se la sicurezza non è una competenza della Regione e allora lì sono nati i tanto vituperati vigilantes e abbiamo iniziato un nuovo progetto con delle guardie giurate armate. C'è l'impegno di utilizzare al meglio questi uomini anche sulla linea che lei ha sottolineato. Ad agosto queste linee sono state soppresse proprio per la presenza di spacciatori, di pusher. Questo è un fallimento dello Stato. Noi abbiamo alzato bandiera bianca per un mese intero su questa linea. Questo per sottolineare la gravità della situazione. Poi benissimo il discorso delle guardie giurate mi fa piacere saperlo. C'era una seconda parte della mia question time che riguardava il rilancio turistico della linea perché solo col presidio di sicurezza il problema non lo risolviamo. Dobbiamo far sì che la gente inizia a utilizzare in maniera assidua quella linea. Con quelle stazioni si entra nel parco delle Groane, famiglie, turisti, ciclisti, gente che magari con la bici parte da Milano in mezz'ora in un polmone verde enorme. Noi su quello dobbiamo lavorare se vogliamo risolvere veramente a lungo termine il problema. Quindi io mi auguro che si prenda anche in considerazione questo aspetto. Grazie.